Francesco, ma per imparare l'italiano devo veramente studiare la grammatica? Quante volte mi hanno posto questa domanda. Parliamone insieme oggi. Non ho un discorso preparato, parlerò un po' a braccio e vediamo insieme qual è il mio punto di vista. Ragioniamo insieme. Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. Se non mi conosci, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Se ti piacciono i miei video e vuoi continuare a imparare l'italiano insieme a me, puoi cliccare sul bottone iscriviti qui sotto e sul simbolo della campanella, così riceverai una notifica ogni volta che pubblico un video nuovo. Ragioniamo su questa domanda. Grammatica sì o grammatica no? Ci sono persone che dicono no, la grammatica non serve a niente, bisogna imparare una lingua immergendovi sì. Immergendovi sì. Bello. E poi dal lato opposto ci sono persone che dicono la grammatica è fondamentale, bisogna studiarla fin dal primo giorno. Chi ha ragione? Chissà, potrebbero aver ragione entrambi? Come potrebbe non aver ragione nessuno dal momento che la polarizzazione delle opinioni non è mai una buona idea, no? I primi ritengono che la grammatica non sia utile e che bisogna immergersi nella lingua italiana per impararla. E questo è comunque corretto perché ascoltando, ascoltando, leggendo e leggendo in italiano, acquisirai il lessico e le strutture grammaticali in modo naturale e automatico. Per molti richiederà molto tempo, ma funziona. Per i secondi invece la grammatica è importante perché una volta che capisci il funzionamento di quella regola grammaticale puoi replicarla e quindi puoi usare la stessa regola in contesti diversi e in frasi diverse. È ovvio che qui non possiamo pretendere che tutti siamo uguali e che ci sia un metodo che vale per tutti. Ci sono tantissimi fattori che entrano in gioco qui, per esempio la distanza fra la nostra lingua madre e la lingua che stiamo studiando. Tendenzialmente più questa distanza è grande, più la grammatica diventerà necessaria per comprendere il funzionamento di quella lingua, almeno come riferimento. È anche vero che ognuno di noi ha stili cognitivi differenti. Lo stile cognitivo è il modo in cui noi acquisiamo, immagazziniamo e rielaboriamo le informazioni e quindi è anche il modo in cui apprendiamo una lingua, nel nostro caso. Parlando sempre a livello polarizzato, ci sono studenti che hanno uno stile cognitivo estremamente analitico e si soffermano a cercare il significato delle parole che non conoscono, anche troppo molto spesso, che hanno bisogno di conoscere il funzionamento di quella regola grammaticale e si soffermano ad analizzare la grammatica nelle frasi. Sono persone quindi molto analitiche e che molto spesso non sono tolleranti all'ambiguità, quindi quando trovano una parola che non conoscono, faticano ad andare avanti nell'ascolto o nella lettura, e quando parlano, se non ricordano o non conoscono bene la pronuncia di una parola, tendono a bloccarsi. Stiamo parlando di uno stile analitico, quindi estremo. E poi ci sono persone che hanno uno stile analitico estremamente globale, che riescono a focalizzarsi sul significato generale di quello che leggono e ascoltano, e sono anche molto tolleranti all'errore e all'ambiguità, quindi riescono a continuare una conversazione anche se non conoscono tutte le parole o non sono sicuri nella pronuncia, continuano a leggere o ascoltare del materiale in italiano anche se non comprendono tutto. È uno stile cognitivo loro. Quindi per quanto riguarda la grammatica ci sono persone che hanno un estremo bisogno di comprenderla e persone che invece riescono a farne a meno, oppure utilizzare manuali di grammatica come riferimento. Questo non significa assolutamente che bisogna assecondare il nostro stile cognitivo al 100%, soprattutto quando ci troviamo in uno degli estremi. Non è funzionale focalizzarsi su ogni singola parola che non conosciamo e su ogni singola regola grammaticale che troviamo in un testo. Ma ci sono anche persone che trovano frustrante il metodo naturale, perché hanno bisogno di un minimo di analiticità, un minimo di analisi. L'approccio alla grammatica dovrebbe seguire un metodo. Quindi se tu sei uno studente che riesce ad acquisire una lingua facilmente con l'immersione, tanto meglio. Ma se per te la grammatica è importante e vuoi smettere di focalizzarti su ogni singolo aspetto grammaticale, è importante seguire un metodo e come sai è importante sempre partire da un contesto, da un materiale che potrebbe essere audio o video o scritto. E non focalizzarsi immediatamente sulla grammatica, ma ovviamente sulla comprensione del contenuto di quel testo, perché quando usiamo una lingua la usiamo per comunicare e per prima cosa dobbiamo comprendere quello che le persone ci dicono. Se usi un manuale sicuramente dopo il testo seguiranno sempre degli esercizi di comprensione. Poi sarebbe utile focalizzarsi sul lessico. Quali sono le parole e le espressioni nuove e utili di questo testo? Come posso lavorare attivamente su questo lessico nuovo? E successivamente lavorare sulla grammatica, che potrebbe essere la coniugazione dei verbi in un certo tempo verbale, l'uso delle preposizioni, degli articoli, dipende. Ma tutto parte da un contesto, segue la comprensione e poi il lessico e la grammatica. Senza la comprensione del contesto risulta tutto difficile. Quante volte hai compreso il significato di una parola o una struttura grammaticale grazie al contesto intorno? Per questo è importante focalizzarsi prima di tutto sulla comprensione e dopo sugli aspetti più tecnici. Studiare esclusivamente la grammatica da un manuale di grammatica non ti porterà a raggiungere l'obiettivo finale, che è quello di comunicare in italiano. Ci sono persone che hanno una conoscenza super approfondita della grammatica italiana, ma poi hanno difficoltà a ordinare una pizza in un ristorante. Ecco, questo non è funzionale, quindi comprensione, lessico e poi la grammatica. E soprattutto diffida di tutti i manuali che ti presentano la grammatica direttamente, spiegata fin da subito. Per veramente acquisire una struttura grammaticale è importante lo sforzo cognitivo. Noi partendo dal contesto, partendo dal testo che stiamo ascoltando o leggendo, dobbiamo cercare di intuire da soli come funziona quella regola grammaticale, perché questo permetterà una memorizzazione a lungo termine e tutte le nostre sinapsi nuove che si creeranno e che ci permetteranno di usare quella regola in futuro. Molto bene, questa era una chiacchierata mia. Abbraccio sul tema della grammatica. Tu che cosa ne pensi? Qual è il tuo approccio alla grammatica? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Ti leggo, eh? A presto!